Ciao a tutti e benvenuti nuovamente sul canale su Vehicle Tech Allora, questo sarà il primo video di una serie di video ancora non so quanti saranno, presumo 3-4 video in totale relativi all'argomento delle emissioni dei motori a combustione interna quindi emissioni relative al trasporto privato, automobilistico e non è un argomento abbastanza complesso, molto vasto quindi vediamo un po' quali argomenti riuscirò a trattare in questa serie di video bene o male saranno i seguenti Allora, in questo primo video analizzerò i dati relativi all'inquinamento da trasporto gas certa, anche emissioni di gas certa farò vedere perché i motori a combustione interna hanno delle emissioni e perché queste devono essere controllate e appunto andando poi nello specifico del singolo inquinante come viene prodotto, perché, con quali caratteristiche e quali caratteristiche dannose ha sull'ambiente e sull'uomo Nel secondo video voglio parlarvi invece delle emissioni specifiche dei motori a combustione interna a benzina quindi analizzare lì la tipologia di inquinanti che questo produce per la maggior parte e come questi vengono trattati appunto nelle automobili a benzina Nel terzo video voglio parlarvi dei motori a combustione interna a diesel quindi farò lo stesso discorso che ho fatto per i benzina e anche per i diesel e poi vediamo magari in un quarto video se ci sarà qualche altro argomento che mi verrà in mente di approfondirlo nell'ultimo video Allora, partiamo quindi con questa tematica i dati sono parecchi allarmanti e vanno presi in considerazione non bisogna essere dei fondamentalisti e pensare che tutto vada bene e che tutto debba rimanere così non è assolutamente così che va presa questa sfida che ci aspetta per i prossimi decenni quindi perché l'IPCC, ovvero un organismo dell'ONU che si occupa di studiare i cambiamenti sul clima ha erogato un report proprio quest'anno in cui si afferma che è proprio l'uomo sono proprio le attività dell'uomo a generare appunto il cambiamento climatico che da tanto si discute, che da tanto è in atto quindi per la prima volta degli studi scientifici da esperti da tutto il mondo confermano appunto la colpevolezza delle attività dell'uomo nel cambiamento del clima nel cambiamento del clima della Terra che sta avvenendo in questi anni questo è relativo alle emissioni di gas CERD infatti la maggior parte di queste problematiche ambientali relative al riscaldamento globale deriva dai gas climaalteranti come scritto qui sono per lo più energie carbonica, CO2, cloroforocarbure che appunto sono stati vietati e altre tipologie di gas che via via sono state vietate nel loro utilizzo in questi anni ma per lo più si tratta di energie carbonica relativamente al fatto, al perché l'energie carbonica è un gas climaalterante perché è proprio che effetto serra vi riporto un video molto interessante di Geopop forse lo conoscete già io non ho alcuna collaborazione con loro ma semplicemente li stimo e reputo che la loro informazione sia davvero davvero fantastica davvero di qualità nel mondo, nella panoramica di YouTube Italia e non solo ve lo linko qui in alto e anche in descrizione lo trovate e dategli un'occhiata sicuramente ve lo sarà a spiegare meglio di me World Report del mondiale che potete vedere sul sito Our World in Data certifica che il 12% delle emissioni di CO2 derivano dal settore dei trasporti su ruota quindi trasporto automobilistico quindi sia privato ma anche trasporto merci e questo 12% è la fetta più grossa di un singolo settore nella distribuzione dell'inquinamento di CO2 delle emissioni di CO2 a livello mondiale quindi non è un valore che va trascurato non è poco il 12% ci sono ovviamente altri settori inquinanti come il settore agricolo il settore energetico inteso come energia spesa per la produzione di energia elettrica o riscaldamenti fatto sta che questo valore è molto alto e va ovviamente diminuito il più possibile invece per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti quindi dannose sia per la flora e fauna dannose per le nostre città dannose per la salute umana questa è una tematica molto importante che ci tocca davvero in prima persona soprattutto il nord Italia centro nord Italia dove si hanno concentrazioni di inquinanti veramente elevatissime a causa delle attività industriali ma anche a causa delle caratteristiche geografiche queste sono una componente importante ma anche nel nord Europa nell'est Europa soprattutto a causa della produzione di energia elettrica con carbone fatto sta che si stima che soltanto in Europa nel 2019 307.000 persone sono morte prematuramente a causa degli effetti dell'inquinamento da particolato due e mezzo più avanti vi mostrerò esattamente cos'è per esempio solo in Italia nel 2012 ci sono state 80.000 morti premature dovute all'inquinamento da sostanze inquinanti quindi sono valori allarmanti ovviamente vanno attenzionati e vanno migliorati nei prossimi decenni ma veniamo al punto di questo video perché i motori a combustione emettono sostanze climaalteranti sostanze nocive o inquinanti sostanzialmente sono tre le forme di inquinamento e di emissione in questi motori e le ho descritte qui allora sono per lo più i prodotti di una incompleta combustione significa che ora lo vedremo i motori a combustione interna non avviene mai una combustione ideale ora vediamo di cosa si tratta ma avviene la combustione reale presuppone una incompletezza della combustione stessa a livello chimico e questo genera degli inquinanti delle sostanze inquinanti dopodiché si hanno dei prodotti di ossidazione di sostanze presenti di ossidazione completa quindi una ossidazione che è avvenuta in maniera completa in maniera corretta però di sostanze presenti o nel combustibile o nell'aria per esempio l'azoto o il zolfo presente nel combustibile o il piombo nelle vecchie benzine e infine sono dei prodotti di completa ossidazione di sostanze invece già presenti in atmosfera questo è il classico caso della CO2 ad esempio ma torniamo ai motori perché si parla di combustione ideale e combustione reale? bene se prendiamo in considerazione la combustione ideale quindi partendo da un nitrocarburo generico ora qua non vado nel dettaglio formato quindi diciamo da carboni, idrogeno e ossigeno questo reagirà con i componenti dell'aria ovvero ossigeno e azoto queste sono delle quantità che servono per bilanciare la formula non ci interessa in questo momento e ovviamente daranno vita a cosa? CO2, anidride carbonica, H2O ed N2 ci sono prodotti di ossidazione completa per lo più già presenti in atmosfera CO2 e vapore acque ad esempio o azoto o nello stato molecolare cosa succede? realmente all'interno dei nostri motori tutti i tipi di motori anche motori marittimi motori per l'aviazione qualunque di motore a combustione interna avrà una combustione reale che significa? partendo dalle stesse componenti della reazione precedente avremo in questo caso ovviamente questi sono gli N indicano le quantità che ovviamente vanno bilanciate in formule abbastanza complesse ma si avranno un'emissione di CO2, H2O, N2 come nel caso precedente ma oltre a questo ci saranno le altre due componenti ossidazione completa di sostanze presenti nel combustibile e prodotti di incompleta combustione e quali sono? saranno idrocarburi in combusti CO monossidio di carbonio NO monossidio di azoto NO2 biossidio di azoto idrogeno e inserisco qui anche se non è corretto perché questi sono componenti gassose di inquinanti poi ci sono i inquinanti solidi ovvero il particolato che non è incluso in questa reazione lo includo io per tenere la mente per la discussione successiva quindi anche il particolato quindi come vedete da qui nascono appunto tutta la presenza nell'atmosfera di queste sostanze ad opera della combustione dei nostri motori e delle nostre vetture vediamo un po' più nel dettaglio questi inquinanti questi gas questi composti cosa causano perché si formano e con quali modalità allora partiamo dal monossido di carbonio il monossido di carbonio è un gas che si forma per ossidazione di idrocarburi all'interno dei motori a combustione interna ed è un gas altamente tossico e nocivo per il corpo umano tuttavia quando questo viene generato durante la combustione quindi il cilindro una volta che viene espulso questo solitamente reagisce con l'ossigeno presente in atmosfera e si ossida a causa anche della temperatura di gas di scarico e si ossida a CO2 quindi il motore oltre a generare CO2 genera poi allo scarico CO2 anche per ossidazione di monossido di carbonio la reazione di ossidazione è la seguente ovviamente si ossida al CO anche con i radicali liberi presenti anche nei gas di scarico e si ossida appunto a CO2 poi ci sono gli idrocarburi in combusti questi idrocarburi in combusti appunto derivano da combustione incompleta appunto del nostro combustibile allora perché quella combustione sia incompleta e in che misura dipende da una vastità di parametri dei motori dalla dosatura cioè dalla quantità di combustibile rispetto all'aria rispetto al valore stechiometrico anche magari poi approfondirò anche questo argomento ma anche deriva dalla geometria della camera di combustione dalle temperature dagli anticipi sia di iniezione che di accensione nel caso per esempio dei motori di benzina ma anche dallo stato di forma diciamo del motore se è un motore consumato se ha perso compressione se sono presenti una grandissima quantità di depositi carboniosi nelle pareti della camera di combustione questi sono tutti fattori che influiscono sulla formazione di HC quindi idrocarburi in combusti questi idrocarburi in combusti sono altamente cancerogini perché vengono respirati e una volta respirati questi gas vengono assorbiti nel sangue e li diventano purtroppo cancerogini sono molto pericolosi soprattutto uno di questi più famosi il benzene dopodichè l'altra famiglia di gas inquinanti sono gli NOX li trovate spesso con questa nomenclatura NOX la X sta semplicemente a indicare la famiglia di ossidi d'azoto ovvero ossido d'azoto biossido d'azoto triossido d'azoto i più importanti sono il monossido e il biossido d'azoto allora il monossido di azoto di per sé non è tossico non è un inquinante non è considerato tossico e durante durante il processo di combustione nell'interno della camera di combustione il 98% della formazione di NOX è proprio monossido di azoto allora questo si forma secondo vari meccanismi più o meno complessi uno dei più accreditati si chiama meccanismo di Zeldovich che presuppone tre tipologie diverse reazioni con cui si formano ossido d'azoto a partire da idrogeno molecolare ossigeno molecolare o radicali liberi perché si trovano ossigeno molecolare e azoto molecolare si presuppone che a causa delle elevate temperature si formino ossigeno e azoto molecolare appunto si dissociano nella loro forma molecolare da altri componenti e quindi nelle zone ad altissima temperatura si forma molto monossido di azoto dicevamo il monossido di azoto di personone è tossico il problema è che una volta espulso dei gas di scarico le percentuali si invertano ovvero gran parte del monossido di azoto ovvero quasi tutto viene ossidato a biossido di azoto direttamente in atmosfera e questo rende appunto la generazione di monossido di azoto all'interno del processo di combustione molto pericolosa perché poi si metterà nell'atmosfera grandissime quantità di biossido di azoto che invece è assolutamente nocivo causa irritazione alle vie respiratorie irritazioni polmonari ed è anche responsabile di piogge acide quando rimane in sospensione in atmosfera e poi arriva al suolo tramite pioggio o fenomeni atmosferici di altro tipo infine abbiamo il particolato che non è un inquinante gassoso è un inquinante solido come dicevo prima sostanzialmente si tratta di particelle solide di carbone quindi particelle carboniosi che rimangono in sospensione nei gas di scarico e creano la fuligine del cosiddetto fumo il particolato ha una formazione molto complessa si genera essenzialmente in tutte le tipologie di fiamma che si chiamano diffusive ovvero sono quelle tipologie di per esempio motori a combustibile interna dove si ha l'iniezione diretta del carburante sia di benzina che di gasolio questo perché perché si crea immaginatevi il getto di combustibile che entra in camera di combustione all'interno del getto le parti più interne del getto si avrà esclusivamente presenza di combustibile e non di ossigeno però a causa del calore presente all'interno della camera di combustione questo sarà soggetto a un elevato flusso termico e questo genera la decomposizione di alcuni idrocarburi in quelli che vengono chiamati dei precursori ovvero sono idrocarburi che perdono idrogeno questi precursori avendo perso idrogeno reagiscono molto facilmente con altri elementi con altri idrocarburi con dei radicali liberi e questo forma i primi composti che poi formeranno il particolato i primi composti poi si formano tramite vari meccanismi di agglomerazione e accrescimento superficiale di collisione con altre particelle di questo tipo e poi formano il particolato questo si distingue poi il particolato PM10 ovvero con tutte le particelle di diametro minore di 10 micron e il particolato 2,5 particolato fine dove il diametro medio delle particelle è inferiore a 2,5 micron è molto pericoloso il particolato forma lo smog cittadino annerisce superficie ma soprattutto è altamente tossico per livello polmonare e soprattutto è molto molto cancerogeno perché si deposita all'interno dei bronchi soprattutto la componente più fine del particolato come dicevo qui questa statistica impressionante riguardo la pericolosità del particolato fine PM2,5 allora per questo primo video questa prima parte di video relativa agli inquinanti all'emissione dei motori è tutto spero sia stato chiaro una breve panoramica degli inquinanti perché si formano e perché sono pericolosi ci vediamo con le prossime puntate quindi non vi scordate di seguirmi di iscrivervi al canale la maggior parte di voi che seguono questi video non sono iscritti al canale quindi iscrivetevi a me non costa nulla per me di grande importanza anche lasciare un like quindi ci vediamo con i prossimi video con le prossime puntate di questa serie ciao ciao